Gonzalo Quiroga sta bene, è la società bianconera, la Tonazzo Volley Padova a pubblicare oggi il primo post per i tifosi all'indomani della notizia tragica dell'incidente in cui il pallavolista argentino di 22 anni è rimasto coinvolto ieri mentre stava viaggiando in macchina con il cugino. L'atleta rimane ora sotto osservazione, si legge nel reparto di rianimazione ma non è in pericolo di vita. Sono state però ore di apprensione per lui ricoverato ieri pomeriggio in prognosi riservata all'ospedale di Verona dopo un tamponamento a catena sull'autostrada A4 in direzione Milano. L'atleta era rimasto incastrato con il corpo tra le lamiere dell'auto dopo un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 autovetture. Estratto dalla macchina dai vigili del fuoco era stato trasportato con l'elisoccorso al Polo Confortini dove era giunto privo di conoscenza. Tweet con aggiornamenti continui sul suo stato di salute ma potrà a breve tornare ad abbracciare i suoi compagni. Non c'è stato nulla da fare invece per Giancarla Formaggio, una pensionata di 64 anni. Il suo corpo è stato trovato privo di vita dentro un'automobile finita in un fossato lungo la provinciale 19 tra Poiana Maggiore e Montagnana. Forse a causare la tragica sbandata, un malore, la donna lascia tre figli.